In Sicilia per la tornata delle elezioni amministrative si voterà il 12 giugno. Lo ha appena deciso il governo Musumeci su proposta dell'assessore alle autonomie locali, Marco Zambuto. A essere interessati sono 120 comuni, 107 con il sistema maggioritario e 13 con quello proporzionale. I consiglieri comunali da eleggere sono 1520 e le sezioni elettorali che saranno costituite sono 1747. La popolazione coinvolta è di 1.710.000 abitanti. Si voterà nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23. Lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, successivamente allo spoglio delle schede della consultazione referendaria. Il decreto di indizione dei comizi dovrà essere emanato entro il 13 aprile. L'eventuale ballottaggio si terrà il 26 giugno. Si vota in due capoluoghi di provincia, Palermo e Messina, dove le consultazioni riguardano anche le circoscrizioni 8 a Palermo e 6 a Messina. Alle urne anche altri grossi centri, Palma di Montechiaro e Sciacca nell'Agrigentino, Niscemi in provincia di Caltanissetta, Acicatena, Palagonia, Paternò e Scordia nel Catanese, Pozzallo e Scicli in provincia di Ragusa, Avola nel Siracusano ed Erice in provincia di Trapani.